Il suo regno venne rovesciato, una maledizione fu gettata su di lui e fu bandito dal suo mondo per sempre. Buon Natale, ragazzi! Ora, fate amicizia. Finché, in una magica notte, scoprì qualcuno che avrebbe potuto cambiare il suo destino. Ciao, Mary. Tu sai parlare? Stavo aspettando qualcuno come te. Solo tu hai il potere di infrangere la maledizione. Combatterò contro il re dei topi e riconquisterò il mio regno. Vuoi venire con me? Sì. È reale. La realtà è pura illusione. Ce l'hai fatta. Hai creduto in me. Il sortileggio sul principe spezzato. Quest'anno... È bellissimo. Vivi una delle storie più amate di tutti i tempi. Scusa. Una storia che non avresti mai sognato. Wow! Puoi farlo ancora, per favore? In 3D. Ora, un piano! Al Fanning, Nathan Lane e John Turturro. Vuoi dire via al tuo principe! Dobbiamo fermarlo. Attenti! Lo schiaccianoci in 3D.